Noi dobbiamo al Garigliano, non so se con o senza ponte, uno dei monumenti della gastronomia meridionale. Perché come sapete cos'è l'Italia nel mondo è la pizza, quindi l'Italia nel mondo è Napoli. Ma quello che fa la pizza ce l'ha avuto tutto il mondo. La base della pizza viene da un seme di frumento isolato circa 10.000 anni fa, in un punto al nord della Mesopotamia, che si è diffuso nel mondo un chilometro giro all'anno, ci ha messo 3-4 mila anni per arrivare. Ci siamo dovuti fregare le civiltà, sì le babilonesi, le accadiche, però non so se vuole la pizza qualche sacrificio è stata fatta. Poi ci serviva l'olio, per cui che succede? E gli dei decidono di far impazzire gli Atenesi e gli fanno andare l'attacco di Siracusa, dove vengono, fanno la fine che fanno, temizzo le cose, eccetera, però è arrivato l'olio. Serviva il salo e ci siamo però fregati la civiltà atenesi, mica mai cosa c'è niente, però l'olio costa, si sa. E poi ci serviva il salo ma in quantità industriale, mica perché non lo conoscessero. Gli unici che facevano, trattavano il salo in quantità industriale, facevano una estate per il salo, la salaria, pagavano con il salario il salario, erano i romani, perché avevano voluto sacrificare la magna a Grecia per far arrivare i romani a Napoli. A quel punto ci serviva la mozzarella, però di bufana.